Claudio Schiavoni, Imesa, SPA. Sicuramente i dati più importanti sono quelli di capire quello che è la produttività dell'azienda, sicuramente più sono aggiornati meglio è, ovviamente se accorciamo il tempo va benissimo. La fonte di cui partiamo sono quelle che sono le esigenze della nostra azienda, quindi si fa un'analisi, uno screening, siamo appoggiati a una società di consulenza che ci ha fatto un'analisi a 360 gradi e abbiamo individuato quelli che sono i punti nevralgici per lui. Noi investiamo tutti gli anni in formazione dei nostri collaboratori e soprattutto da un paio d'anni a questa parte stiamo fortemente investendo nella trasformazione digitale.